Può capitare di studiare molto ma di non riuscire a prendere un voto alto ad un esame oppure a una prova scritta, ma ciò non succede se si studia nel modo giusto. Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video in cui parliamo di studio e preparazione specifici per gli esami scritti. Le prove scritte possono essere molto difficili da preparare, soprattutto a causa del tempo limitato a disposizione. Per questo motivo le prove scritte richiedono uno studio un pochino diverso ed alcuni accorgimenti che sono applicabili sia agli esami universitari sia alle prove per le scuole medie o per le superiori. Sarebbe infatti un peccato studiare tanto e impegnarsi senza riuscire ad ottenere i risultati sperati soltanto perché si tratta di una prova scritta. Ammetto che anche a me una volta gli esami scritti spaventavano, ma poi da quando ho iniziato a mettere in pratica i consigli che oggi condividerò con voi non mi hanno più fatto paura e sono riuscita sempre a superarli con il massimo dei voti. La base per la preparazione di qualunque esame scritto o orale è sempre un buon metodo di studio e ho fatto altri video sul metodo di studio in cui ne parlo nel dettaglio, vi lascio il link nel caso in cui voleste andarli a guardare. I consigli di cui parliamo oggi servono per adattare il metodo di studio generale alle caratteristiche specifiche degli esami scritti o delle prove scritte. E vediamo ora quali sono questi sei passaggi. Il primo passaggio è quello del formato dell'esame. Abbiamo detto che si tratta di un esame scritto, ma non tutte le prove scritte sono uguali. Può essere una prova a domande aperte, un tema, un caso pratico, una serie di esercizi, un test a risposta multipla e così via. Se il nostro obiettivo è quello di prendere un voto alto, dobbiamo per forza conoscere il formato dell'esame che ci accingiamo a tentare. Infatti, conoscere il formato dell'esame e la sua struttura interna fa veramente la differenza, ve lo garantisco. Dobbiamo cercare di catalogare i concetti che studiamo ed organizzarli nel nostro cervello secondo il sistema che dovremo poi utilizzare all'esame per recuperarli. Inoltre, ovviamente, dobbiamo anche conoscere qual è il limite di tempo a disposizione per completare la prova d'esame. In questo modo riusciremo a orientare il nostro studio verso la formulazione di risposte più lunghe o più brevi, a seconda del tempo che abbiamo a disposizione. Occorre quindi avere chiaro fin dall'inizio il formato dell'esame. Inoltre, se possibile, è molto utile procurarsi prove d'esame vecchie, spesso reperibili su siti online come Questiones, gruppi Facebook dell'università, oppure chiedendo ad altri studenti che hanno già sostenuto l'esame. Infine, non c'è niente di male a chiedere al professore come sarà strutturato l'esame e quali sono le sue aspettative. Nei casi in cui sono riuscita ad acquisire informazioni sull'esame e magari anche a procurarmi una prova, una vecchia prova all'esame, il mio studio è stato molto molto più facile. Con gli altri consigli sono comunque riuscita a superare esami anche quando non avevo a disposizione il format dell'esame, ma comunque nei casi in cui ce l'avevo a disposizione lo studio è stato molto più rapido. Il secondo passaggio è quello della lettura attiva. Si tratta di un passaggio fondamentale nello studio per qualunque tipo di esame, scritto o orale. Nel caso di esami scritti con più domande a risposta aperta, dobbiamo chiederci per ogni capitolo quali sono gli argomenti più importanti che potrebbero essere oggetto di domande. Di solito non si tratta di argomenti né troppo generici e vasti, dei quali non sarebbe possibile scrivere in modo esaustivo, né troppo specifici, dei quali non ci sarebbe abbastanza da dire per rispondere ad una domanda. Il mio consiglio è quello di scrivere su un foglio di carta oppure sul computer, io per questo utilizzo Notion, una lista di tutte le domande che ci vengono in mente quando studiamo. E per formulare queste domande ci dobbiamo basare sulla nostra conoscenza del formato dell'esame. In quasi tutti gli esami le domande non si concentrano su un solo argomento, ma spaziano su argomenti diversi, proprio per permettere al professore di comprendere se il candidato ha una conoscenza sufficiente di tutti gli argomenti d'esame. E lo stesso metodo è applicabile anche nel caso in cui il nostro esame si componga di esercizi da risolvere. Invece della lista delle domande dovremo compilare la lista degli esercizi. Quindi, mentre leggiamo, dobbiamo preparare questo elenco con tutte le possibili domande che riusciamo a formulare leggendo i materiali da studiare. Questo ci sarà molto utile per i passaggi successivi. Tuttavia, il nostro studio non deve essere limitato alle domande che scriviamo, ma deve coprire tutti gli argomenti d'esame. Se però formuliamo bene le domande e ne formuliamo abbastanza, in realtà le nostre domande copriranno tutti gli argomenti d'esame. Ma conviene sempre evitare di lasciare fuori degli argomenti dal nostro studio, perché per quanto bravi possiamo diventare a prevedere il tipo di domande che ci saranno all'esame, è sempre meglio non rischiare. Il passaggio numero tre è quello dell'active recall mirato. Abbiamo ripetuto molte volte che uno studio efficace deve essere basato sull'active recall e non deve essere passivo. E ho spiegato nel dettaglio cosa significa active recall in altri video che vi consiglio di andare a guardare. Per quanto riguarda gli esami scritti, il nostro punto di partenza devono essere le domande che abbiamo formulato e che abbiamo scritto mentre facevamo la nostra lettura attiva. Inizialmente, subito dopo la lettura del paragrafo, dobbiamo provare a formulare oralmente una risposta alla domanda sulla base di quello che ci ricordiamo. Solo dopo aver provato a rispondere alla domanda, possiamo andare a rivedere il paragrafo sul libro. Se si tratta di applicare la teoria agli esercizi, occorre fare gli esercizi per esteso. Questo passaggio deve essere svolto per ogni paragrafo o sezione da studiare e serve ad obbligarci a svolgere una lettura attiva e a recuperare le informazioni dal nostro cervello. E queste attività costituiscono la base dell'apprendimento. Il quarto passaggio è quello di formulare risposte scritte. Alla fine di ogni sessione di studio, di ogni giornata di studio, occorre riprendere la lista di domande che abbiamo compilato e provare a rispondere per esteso, per scritto. In realtà, se si tratta di domande che richiedono una risposta molto lunga e non abbiamo molto tempo, possiamo anche rispondere per sommi capi, ma comunque dobbiamo identificare la struttura della nostra risposta. E se si tratta di esercizi, occorre svolgerli perlomeno scrivendo il procedimento per svolgere l'esercizio, se non facendo proprio tutti i calcoli. Nella formulazione della nostra risposta dobbiamo fare in modo di trovare un buon equilibrio tra sintesi e precisione. Dobbiamo arrivare subito al punto senza perderci in preamboli inutili, ma allo stesso tempo dobbiamo essere quanto più precisi possibile. Dobbiamo mostrare di aver compreso quello che abbiamo studiato, fornendo più dettagli possibile, ma senza andare fuori tema e divagare, perché se andiamo fuori tema sprechiamo tempo prezioso e diluiamo un po' l'impatto delle nostre conoscenze, quindi anche se scriviamo di più magari sembra che sappiamo di meno. Per individuare la lunghezza corretta della risposta è anche utile chiedere al professore, per sapere quali sono le sue aspettative. E ovviamente la lunghezza della risposta è anche determinata dal tempo che abbiamo a disposizione, che dobbiamo sempre tenere presente. Nella formulazione della risposta dobbiamo utilizzare correttamente i termini tecnici specifici della materia, oltre che un linguaggio corretto nella lingua nella quale stiamo scrivendo. Proprio perché ci sono così tanti requisiti che una buona prova scritta deve rispettare, è molto utile, se non indispensabile, allenarsi molto a casa a scrivere queste risposte, le risposte alle domande che secondo noi potrebbero venirci presentate all'esame, in modo da non trovarci il giorno dell'esame, seduti al nostro banchetto d'esame, a improvvisare le risposte e anche solo a improvvisare il formato delle risposte. Dobbiamo prepararci prima. Il quinto passaggio è quello della spaced repetition. Come abbiamo detto più volte, ripetere una volta sola, fare active recall una volta sola, non basta. Questo perché il fenomeno della curva dell'oblio ci fa gradualmente dimenticare quello che abbiamo studiato se non lo ripetiamo ad intervalli sempre più lunghi. Ho fatto altri video sulla spaced repetition, vi lascio il link cosicché possiate andarli a guardare ed avere più dettagli. Per le prove scritte, che siano risposta aperta, multipla o basate su casi pratici ed esercizi, è utile riprendere la lista di quesiti che abbiamo preparato e provare a rispondere ad intervalli sempre più dilazionati, secondo un piano di spaced repetition. La ripetizione per gli esami scritti deve essere fatta preferibilmente in forma scritta. Infatti, se ripetiamo soltanto oralmente, esponiamo gli argomenti, i concetti solo oralmente, rischiamo di dilungarci troppo e di non riuscire a sintetizzare abbastanza le nostre conoscenze per superare l'esame scritto. Se scrivere le risposte per esteso richiede troppo tempo, so che non abbiamo moltissimo tempo a disposizione, possiamo comunque scriverle per sommi cape, scrivere una scaletta o indicarne comunque la struttura e poi formulare oralmente la risposta che andremo a scrivere senza scriverla. Ma dobbiamo esercitarci a non spiegare le cose oralmente come faremo di un esame orale, ma a cercare di ripetere oralmente proprio quelle parole che andremo a scrivere se dovessimo appunto rispondere ad una domanda all'esame. Nella ripetizione dobbiamo poi dare priorità agli argomenti sui quali ci sentiamo meno preparati, altrimenti finiamo per conoscere benissimo alcuni concetti ed essere molto carenti su altri. Il giorno prima dell'esame è molto utile dare uno sguardo a tutti gli argomenti, anche solo uno sguardo veloce per fissarli bene nella mente, in modo da dare un po' una rinfrescata a tutto il programma ed essere pronti per l'esame. Il passaggio numero 6 è quello della concentrazione all'esame. Gli esami scritti presentano un'ulteriore difficoltà rispetto a quegli orali ed è l'assenza di un riscontro immediato. Mentre ad un esame orale possiamo sempre riindirizzare, riaggiustare la nostra risposta sulla base del feedback immediato che riceviamo dal professore, anche solo dall'espressione del suo volto, ciò non è possibile agli esami scritti perché non abbiamo nessun riscontro immediato, siamo noi da soli con la nostra penna e il nostro foglio, oppure il nostro computer. Per questo motivo dobbiamo concentrarci al massimo il giorno dell'esame, mentre stiamo svolgendo la nostra prova, per evitare errori di distrazione, lapsus imprecisioni che potrebbero costarci parte del voto. Dobbiamo gestire bene il nostro tempo e portare a termine la prova. E dobbiamo anche assicurarci di riservare tempo a sufficienza alla fine della prova, in modo da poter rileggere tutto, dare uno sguardo a tutto ed eliminare eventuali errori di distrazione. Per quanto riguarda la gestione del tempo, il giorno dell'esame, ho alcuni consigli da darvi, consigli basati sulla mia esperienza, su alcune prove d'esame durante le quali non sono stata soddisfatta della mia gestione del tempo e poi sul modo in cui ho migliorato il mio approccio alla prova scritta. Prima di tutto io di solito do uno sguardo veloce a tutte le domande, per rendermi conto se ci sono domande delle quali proprio non so nulla, se ci sono domande più facili e più difficili. Dedico proprio un minuto, cioè pochissimo tempo, non è che inizio a formulare una risposta per tutte, è soltanto l'impressione che mi dà la prova, anche per contare quante domande ci sono e dividere bene il tempo. Divido appunto il tempo, decido quanto tempo dedicare a ciascuna domanda e poi inizio dalle domande che so meglio. Scrivo proprio bene, rispondo bene alle domande che so bene in modo da assicurarmi di avere il tempo per queste domande, perché se io partissi dalle domande che non so, utilizzerei magari più tempo per provare a rispondere e rischierei di non avere più tempo a disposizione per rispondere alle domande che effettivamente sapevo e quindi di prendere un voto basso, più basso di quello che mi sarei meritata in base al mio studio. Per questo motivo che prima fisso i limiti di tempo, poi rispondo subito alle domande che so bene, che conosco meglio e alla fine mi dedico a quelle che non so, in modo da assicurarmi di rispondere bene almeno sugli argomenti che conosco. Ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi invece parte dalle domande più difficili per togliersele subito. Questi sono i miei consigli basati sulla mia esperienza e mi sono trovata molto bene, quindi spero che possano aiutare anche voi. So che ad alcune persone, me compresa, le prove scritte sembrano più difficili di quelle orali, ma con la giusta preparazione si possono prendere voti alti, si possono superare bene anche le prove scritte. Il principio da seguire è quello per cui il nostro studio deve imitare la situazione in cui ci troveremo all'esame. Non dobbiamo arrivare all'esame non preparati, non solo sui contenuti, ma anche proprio sulla forma dell'esame. Il nostro studio deve essere diretto a superare l'esame. Ciò non significa che studiamo soltanto in vista degli esami per poi dimenticare tutto. Il metodo di studio del quale vi ho parlato in altri video è un metodo di studio per imparare per la vita, ma in questo video parliamo di come massimizzare i risultati del proprio studio nel senso di prendere voti alti. Fatemi sapere se avete altri consigli per affrontare al meglio le prove scritte. Se il video vi è piaciuto mettetemi un like, lasciatemi un commento, condividetelo con le persone che conoscete. Seguitemi su Instagram e ricordatevi che escono sempre due video a settimana e che c'è anche una versione scritta di questo video sul mio blog, giugissima.com, vi lascio il link nella description box. Io vi abbraccio forte, vi auguro un grandissimo in bocca al lupo per i vostri esami e ci vediamo nel prossimo video.